finiamo gli interventi Stefano io da Transform con Transform ho cominciato a collaborare partendo dal fatto che occupandomi da una trentina d'anni di immigrazione ed essendo il co-coordinatore di uno dei gruppi di lavoro del Partito della Sinistra Europea insieme a Olga Taniti quello sull'immigrazione diventava lo spazio in cui poter trasmettere il lavoro che veniva fatto in Europa all'interno di uno spazio di uno spazio italiano poi avendomi corrotto Roberto Morea inevitabilmente mi ritrovo ogni mercoledì a pubblicare anche su temi diversi questioni internazionali comunicazione le cose che più mi interessano anche da giornalista però quello su cui secondo me è giusto che questa riunione in qualche maniera chieda anche più spazio l'ho sentito nell'intervento di Piero è una cosa che condivido pienamente è che anche i gruppi di lavoro del Partito della Sinistra Europea si riempiano di questo tipo di interventi guardate i gruppi di lavoro sono preziosi e purtroppo spesso non sono sufficientemente supportati dalle reali esigenze che abbiamo prima più di un intervento apprezzato molto quello di Fausto Bertinotti si parlava e non soltanto il suo si parlava molto della globalità delle crisi e della globalità delle guerre beh per esempio eh di Africa di Afriche anzi perché l'Africa sono cinquantasei paesi eh di cui cinquantaquattro riconosciuti con crisi complessità di cui vediamo gli effetti attraverso i percorsi migratori a volte ma che in realtà rappresentano un mondo geopolitico umano e rappresentano anche il futuro dell'umanità perché il la metà della popolazione è sotto i venticinque anni tanto per dare un'idea beh di questo purtroppo eh ancora siamo carenti come tipo di dibattito e come tipo di cultura come eh capacità di analisi che non sia l'analisi oserei dire colonialista o quasi colonialista di chi non guarda i paesi non ha in grado di guardare quei paesi come probabili o potenziali alleati in cui ci sono movimenti sociali che si occupano d'ambiente di femminismo di lotta al fondamentalismo religioso eh se non prendiamo il il contatto con questo tipo di realtà e non lo traduciamo in qualcosa che diventa ehm materiale pubblico e trasforma uno di quegli spazi speriamo che non sia l'ultimo degli spazi che non sia il solo di questi spazi la rete media media allianz può esserne uno ma eh siamo un po' più ambiziosi dico del gruppo Africa ma vale un po' per tutti quanti gli altri gruppi beh questa interconnessione fra il lavoro del partito alla sinistra europea in cui eh l'azione dei degli iscritti e delle iscritte ai partiti e l'azione delle iscritte e degli iscritti individuali diventa sinergica e diventa capace di eh di ricostruire quel tipo di cultura politica di cui abbiamo bisogno probabilmente senza questo non andiamo da nessuna parte a mio avviso le potenzialità ci sono a mio avviso aveva ragione Paola Nunes quando diceva che il fondo forse si è toccato e che eh dobbiamo soltanto risalire da questo punto di vista a mio avviso arrivano segnali soprattutto dalle nuove generazioni che qui purtroppo sono poco rappresentate con cui dovremmo eh ritrovare in essi comunicativi penso alle questioni ambientali ma non soltanto su cui c'è maggiore capacità di eh trovare forme di ehm di collusione penso eh a tutto il il nuovo rapporto col mondo del lavoro eh penso a tantissimi altri spazi che eh faccio fatica a catalogare l'uno come separati come contenitori separati ma fanno parte di un grande insieme si può ricostruire cultura politica lasciatemi un'ultima battuta eh che riguarda transform ma credo che riguardi anche i dibatti di nostri eh sulla guerra non la pensiamo tutti alla stessa maniera eh e sulla guerra c'è un dibattito che andrebbe tirato fuori da una maledetta logica binaria che ci fa vedere eh in qualche maniera tutti o influenzati unicamente dalla propaganda eh guerra fondaia del mainstream eh nostrano oppure ci fa cercare qualche oppure ci fa cercare qualche alleato eh o qualche mh forma di debole sensibilità maggiore per chi non è coperto invece dai dai medi occidentali. Io credo che la guerra vada affrontata come fenomeno complesso che produce imbarbarimento da persona che si occupa di immigrazione dico che per me il punto di caduta sono i quattro milioni e mezzo di persone ormai cinque quasi che sono dovuti fuggire da un paese come l'Ucraina e sono soltanto una parte degli ottantaquattro milioni di uomini e donne che nel mondo sono attualmente in condizioni di migrazione forzata il quattordici di questo raggiunge i paesi in via di sviluppo i paesi ehm ricchi l'ottantasei per cento resta nei paesi in via di sviluppo ovvero parliamo di decine e decine di milioni di persone che passano dalla fame alla fame dalla casa bombardata alla baracca o se va bene alla tenda beh eh non lo dico per spirito eh umanitario ma per ragione politica per guardare al futuro come politica o cominciamo a guardare ai danni delle guerre e alle guerre per come vengono provocate a partire dalle vittime delle guerre che sono i popoli o altrimenti non andiamo da nessuna parte. Grazie. Grazie.